Questo video è la seconda parte del video pubblicato ieri dal titolo La verità sulla riforma del MES. Eravamo arrivati al 9 dicembre 2020, Conte si presenta in Parlamento in vista del Consiglio europeo che si terrà a Bruxelles due giorni dopo, un Consiglio europeo nel quale deve dire sì oppure no alla riforma del MES. Ovviamente il Parlamento è sovrano e quindi deve indicare al Presidente del Consiglio quale posizione prendere. E Conte si trova in una situazione estremamente imbarazzante, infatti non può avere dal Parlamento il mandato di votare no, la sua maggioranza infatti è per il sì e se prevalessero i no cadrebbe il governo, ma contemporaneamente Conte non può avere dal Parlamento il mandato di votare sì, perché fin dalla sua nascita il Movimento 5 Stelle è sempre stato visceralmente contrario al MES, al punto di definirlo uno strumento per sottomettere gli Stati. Quindi si corre il rischio che un certo numero di parlamentari pentastellati votino contro e quindi anche in questo caso potrebbero far cadere il governo. Sembra una situazione senza vie d'uscita, ma dicendo così sottovaluteremo gli esponenti del PD, politici di lungo corso che sanno uscire anche dalle situazioni più imbarazzanti, come suol dirsi riescono a trovare una scappatoia anche fra i dieci comandamenti. La soluzione è una mozione presentata da Del Rio, appunto esponente del PD. In che cosa consiste? In pratica in questa mozione si dice che il nostro governo al Consiglio europeo debba votare sì alla riforma del MES, ma, attenzione, solo se vengono apportate certe modifiche. Ma l'ho già detto nello scorso video e lo ribadisco ancora ora, che sono modifiche più che sostanziali alla riforma del MES. Quindi capiamoci, cari ascoltatori, perché prenderci in giro con le parole è facile. Se mi viene chiesto di approvare un trattato, che ovviamente come tutti i trattati prevederà una serie di regole. E io dico sì, ossia voto a favore di quel trattato, ma solo a patto che vengano cambiate e stravolte quasi tutte le regole principali. Non sto dicendo sì a quel trattato, sto dicendo no a quel trattato. E allora non facciamoci prendere in giro dai giri di parole. Se si va in sede europea a dire io voto sì, ma se voi cambiate totalmente quella riforma, in pratica gli stai chiedendo che debba essere rifatto tutto da capo, che la riforma del MES debba essere stravolta e quindi occorrerebbe rifare tutto da capo, trovare un nuovo accordo su una nuova riforma che poi tutti gli stati dovrebbero approvare. Ripeto, come minimo gli altri 19 paesi ti mandano al diavolo. E ti dicono vota sì, poi se vuoi tornare al tuo paese e raccontare quello che vuoi, anche che la riforma del MES ti fa schifo, puoi pure farlo, ma intanto hai votato sì e questo è quel che conta. Quindi a noi, dicono gli europei, non resta altro che chiedere la ratifica da parte del tuo Parlamento. Che sia andata così lo si evince dal fatto che nel documento finale di quel Consiglio europeo si specifica espressamente che il Consiglio europeo era arrivato alle stesse conclusioni alle quali era arrivato l'Eurogruppo. Quindi la riforma era stata approvata all'unanimità da tutti gli stati. E infine, se ciò non bastasse, abbiamo anche la certezza che Conte abbia dato il suo assenso dal fax col quale Di Maio delega l'ambasciatore alla Farnesina ad apporre la firma di adesione per il nostro Paese. Fax datato 20 di gennaio, con il governo Conte quindi ancora in carica, e firma apposta dall'ambasciatore il 27 gennaio, il giorno dopo la caduta del governo. Punto. Chiaro? Conte può anche dire che a lui la riforma del MES faccia schifo o che sia la riforma migliore del mondo. Questo rientra nelle sue prerogative e naturalmente è anche libero di cambiare opinione. Ma su un fatto non ci sono discussioni. Lui ha votato sì a quella riforma, altrimenti l'Europa ci starebbe chiedendo ancora di dare l'assenso o meno a quella riforma. E invece non ce lo sta chiedendo, ci chiede solamente la ratifica parlamentare, perché il Parlamento è sovrano. Naturalmente una ratifica può anche essere contraria, perché oltretutto abbiamo un Parlamento oggi diverso rispetto a quello di quando Conte era Presidente del Consiglio. Ma torniamo a Conte. Dato che deve ammettere che al Consiglio europeo dell'11 dicembre ha votato sì alla riforma del MES, non può sostenere di aver votato o no, allora ieri ha cercato di sostenere che lui aveva avuto dal dibattito parlamentare del 9 di dicembre il mandato per approvare quella riforma. E ora cito le sue parole. Attenzione perché nella risoluzione parlamentare al termine della seduta del 9 di dicembre, Conte dice che c'è scritto il mio governo è impegnato a finalizzare l'accordo politico raggiunto all'Eurogruppo e all'ordine del giorno dell'Eurosummit sulla riforma del trattato del MES. Certo, se la risoluzione parlamentare si fermasse qui, Conte avrebbe perfettamente ragione, ossia parrebbe che il mandato del Parlamento fosse risultato favorevole alla riforma del MES. Ma il fatto è che quella risoluzione non si ferma a quelle parole ed è lo stesso Conte che correttamente bisogna dire va avanti e lo dice. La ratifica del Parlamento che è l'atto finale, quello decisivo e risolutivo, in quella stessa delibera, sentite, c'è stato anche il chiarimento, se la rileggete, di quella logica di pacchetto che io ho riassunto come Presidente del Consiglio e cioè mi sono riservato poi di dare il mio personale parere. Attenzione, ripeto sempre le sue parole. Ok alla ratifica, solo in prospettiva di una riforma del patto di stabilità e crescita veramente significativa e anche nella prospettiva di modificare il MES, di farne un accordo non più intergovernativo così come è stato, ma uno strumento realmente comunitario e completare anche l'unione bancaria. Da questo punto di vista, quindi, sono tutti passaggi assolutamente alla luce del sole. Ebbene, questo a mio avviso è il passaggio definitivo, fondamentale. Lui dice ok alla ratifica ed ecco ora il clou e poi è lui stesso che sottolinea, alzando la voce, solo in prospettiva di una riforma del patto di stabilità e crescita veramente significativa e va bene sappiamo che questa riforma non è ancora stata fatta. Ed anche nella prospettiva di modificare il MES, di farne un accordo non più intergovernativo così come è stato, ma uno strumento realmente comunitario e completare anche. Attenzione, questo è il passaggio fondamentale, ossia l'eventuale accettazione della riforma del MES sarebbe subordinata a questo aspetto che è sostanziale. Il MES, infatti, è un accordo intergovernativo. Cosa vuol dire? È un accordo fra governi. Cerco di spiegarmi. Non è come tutte le altre istituzioni dell'Unione Europea, che ne so, come il Consiglio Europeo che è formato dai capi di Stato e di Governo, oppure l'Eurogruppo che è formato dai Ministri dell'Economia. Il MES è un'istituzione al di fuori delle strutture comunitarie. È assolutamente indipendente. Certo, i fondi del quale dispone vengono forniti dai diversi governi, ma tanto per capirci, così ci capiamo tutti. Sappiamo che la Banca Centrale è autonoma, non dipendente dalla politica, ma il MES ha un'autonomia ancora superiore, molto superiore rispetto a quella della Banca Centrale Europea. E questo aspetto è sempre stato contestato dall'Italia, che invece, assieme ad altri paesi, ha sempre richiesto che il MES fosse uno strumento comunitario, quindi dipendente dalle istituzioni comunitarie. Ma di tutto ciò, nella risoluzione del Consiglio Europeo, non se ne facenno. Quindi, per smascherare Conte, è semplicissimo. Basterebbe domandargli, scusi, onorevole Conte, ma lei, alla riunione del Consiglio Europeo dell'11 di dicembre, cosa ha votato? Sì alla riforma del MES oppure no alla riforma del MES? Fin qui, insomma, non può dire di aver votato no. Al massimo può dire che ha votato sì, riportando quelle raccomandazioni che derivavano dalla mozione del Rio in Parlamento, ma non sono state minimamente recepite e prese in considerazione del Consiglio Europeo, nella cui risoluzione riporta che la riforma del MES è stata approvata all'unanimità. Quindi, dove ha torto Conte? Ha torto nel non dire chiaramente che lui, alla riunione del Consiglio Europeo, ha votato sì alla riforma del MES. Dove ha ragione Conte? Ha ragione nello sfidare la Meloni, dicendo, come effettivamente ha detto, che tuttavia la ratifica definitiva spetta al Parlamento. Quindi, se alla Meloni e al suo governo questa riforma del MES non sta bene, è sufficiente che si presenti in Parlamento e chieda all'Aula di votare no alla ratifica della riforma del MES. Ovviamente per l'attuale governo sarebbe un passaggio molto delicato, molto pericoloso, perché sappiamo che i parlamentari di Forza Italia sono favorevoli al MES. Quindi la Meloni rischierebbe addirittura di vedere cadere il proprio governo, che invece al momento sembra molto saldo. Ricordiamo poi che il MES tuttora esiste ed è uno strumento di una pericolosità estrema. Qualora infatti un nostro governo, anche in futuro, richiedesse l'intervento del MES, potremmo dire addio anche all'ultimo barlume di democrazia che ancora c'è rimasta.